Ciao a tutti, piacere, io mi chiamo Sofia e è la prima volta che mi vedete qui e questo è Wild Talks, uno spazio dove chiacchiereremo di che cosa significa essere donna oggi, ma non solo, parleremo di corpo, di accettazione, di autostima, di sessualità, di tantissime cose. L'ospite che vi introduco oggi e che mi farà compagnia per questa chiacchiera è, chiederei ad Alexa di quest'isola deserta un rullo di tamburi, Giulia Valentina, ciao benvenuta sulla mia isola con le tue scarpe speradatte. Eccomi, come va? Bene, grazie, tu? Bene, bene, si sta bene qui al caldo. Volevo chiederti se conosci The Wild. Lo conosco perché io se inizio una serie solitamente la finisco subito, quindi oltre ad averla vista l'ho anche già finita, tipo ieri. Sì, la conosco. The Wild è una serie che parla delle donne che si sono ritrovate su un'isola deserta e che quindi sono obbligate per cavarsela a supportarsi a vicenda a un certo punto. Volevo chiederti se tu, quando ti guardi intorno, vedi delle donne che si supportano a vicenda. Devo dire di essere molto fortunata perché lo vedo nella mia vita personale, lo vedo nella mia community su Instagram e anche a livello lavorativo. Io ho avuto la fortuna di diventare amica con tante colleghe, con tante ragazze che fanno un lavoro simile al mio, fanno il mio stesso lavoro. Dico fortunata perché mi sembra quasi un'eccezione, cioè non è la realtà di tutti e non è così sempre. Cioè nel mondo del lavoro è difficile per tanti, specialmente me ne rendo conto quando parlo di questi temi su Instagram, di quante ragazze mi scrivono e mi dicono che per loro non è così. E quindi diciamo che per fortuna nella mia vita sì, ma non è la realtà di tutti sicuramente. Volevo sapere, se ti dico femminismo, ti sembra che ci siano stati dei cambiamenti rispetto a quando tu avevi la mia età o eri adolescente ad oggi? Quando io avevo la tua età percepivo in modo veramente negativo la parola femminismo perché mi sembrava siamo donne che odiano gli uomini e viva solo le donne. E perché non ero informata, come invece lo sei tu e lo sono tante ragazze anche più piccole di 22 anni, non ero informata, ma anche perché non c'erano i mezzi secondo me che ci sono adesso e così fatti bene. E quindi femminismo mi sembrava più un'esclusione degli uomini che quello che realmente... Quando uno poi va a capire come mai si chiama femminismo e come mai è importante chiamarlo in questo modo, capisce allora l'importanza di tutti gli aspetti del femminismo secondo me. Quindi per me c'è stata un'evoluzione e sono sicura che ci sia stata anche per tante altre ragazze che hanno la mia età e quelle più piccole di me invece sono più informate di quanto non lo fossi io a quell'età. Ti sei mai chiesta qual è il motivo per cui invece delle volte questa solidarietà femminile che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere e toccare con mano non c'è? Ci sono tanti motivi. In generale anche l'educazione di tante persone, ma anche, non lo so, la storia delle donne in generale ha portato tante donne a non voler magari sostenersi a vicenda. Secondo me adesso stiamo facendo un bel cambiamento, perché tante ragazze ci si informano molto di più. Tante ragazze cominciano a capire le motivazioni di certe dinamiche, cominciano a capire perché certe frasi suonano male, no? Come dire mi ha rubato il ragazzo o come dire appunto, cioè magari appunto incolpare una ragazza che è stata con uno fidanzato e incolpare lei al posto di incolpare lui. Cioè cominciano le ragazze a dire aspetta, mi faccio un attimo due conti su come mai c'è questa dinamica e poi si capisce che è una dinamica sbagliata, che ha delle radici profondissime. C'è un po' questa difficoltà nel supporto tra donne. È bello, hai parlato di cambiamento. Tu hai sorelle? Sì, del 96 mia sorella, sei anni meno di me. Ok, io ho una sorella di 15 anni e tu hai parlato di consapevolezza relativa ai mezzi nuovi che abbiamo. In realtà io delle volte sono un po' spaventata, cioè spaventata. Mi interrogo tantissimo su come poter essere un esempio positivo per lei o comunque su come aiutarla a trovare il suo valore perché ho paura che questi mezzi delle volte siano anche molto caotici nel dare delle informazioni perché nel momento in cui tutti possono darle, tante volte poi sono imprecise e magari ostili. Allora, io trovo che mia sorella sia, posso fare un TGAG, sia molto più woke di quanto non lo sia stata io alla sua età. C'è molto più sveglia, informata su tante tematiche. E lei ha una mentalità dove si mette in dubbio tante cose, si va a informare, legge, si guarda video, va a cercare un sacco di cose che le possono far diventare, diciamo, più informata e più ricca su questi argomenti. Tu la consigli? Cioè tu la consigli nelle cose da guardare? Allora, lei consiglia tanto me, sì, tantissimo. Mia sorella a certe volte si guarda le mie storie e mi dice, guarda che se stai parlando di questo, guardati anche questa. Lei è una mia ghostwriter quasi, perché mia sorella è molto sveglia. Io penso di essere un buon esempio per lei, sono contenta. Ha visto anche un'evoluzione, no, che secondo me potrà esserle utile, ma non ho paura per lei, diciamo. Ok. Non mi spaventa più di tanto. Ok, interessante. Ma anche perché ci sono io, hai capito? Cioè penso, sono un po' control freak. Penso che se dovesse, cioè le volte in cui ho detto, magari ci sono delle dinamiche, che ne so, in un suo rapporto, che non vanno bene, io sono, sto monitorando, sono come un helicopter parent, no, ai genitori che controllano tutto, no? E quindi penso di poterla proteggere. Sono in modo molto più subdolo dei genitori, perché mia sorella di me si fida e mi dice tutto. Quindi posso essere un helicopter parent molto più dei miei. Molto, tu sei più un submarine, no? Esatto. Perché non ti vede, ma ci sei. Esatto. Se potessi tornare indietro nel tempo e incontrare la te del passato, che consiglio le daresti? Allora, il primo consiglio direi compra casa Milano perché ci starai dieci anni e dieci anni d'affitto alla fine non hanno un senso, quindi subito questo. Ma ti dico, io sono cambiata tantissimo. Io a 16 anni pensavo di essere nata per fare la fidanzata, per dirti, no? Io pensavo che non mi interessava, non pensavo al lavoro che avrei fatto. Io mi sentivo, io sarò pronta per fare la fidanzata. E secondo me questo cambiamento enorme che c'è stato nella mia vita mi ha un po' aiutato a fare poi delle riflessioni adesso, no? Cioè riguardare quanto ero tonta e che stupidaggini credevo. Io poi ho sempre scritto mille diari, quindi me li vado a rileggere, ma anche alla tua età scrivevo diari e leggo delle cose che mi spaventano. Però mi fa pensare che c'è veramente speranza per tutti, perché ero veramente scema. E quindi forse non le direi niente, perché sono contenta di tutte quelle cose dove mi hanno portato e sono certa di continuare ad evolvermi, spero sempre in meglio. Ma veramente sono partita, se leggo quello che scrivevo a 16 anni, a 18, non mi piace. E quindi se quella mentalità lì e quegli errori lì mi hanno portato a fare un'evoluzione, bene. Anche magari di persone sbagliate, no? Uno dice magari nella vita conosce, frequenta persone sbagliate, però poi io esco da quei rapporti con la consapevolezza di cosa non voglio più, come sono io, come mi hanno cambiata. Quindi mi lascerei fare tutti gli errori che ho fatto, forse. Sì, questa cosa degli errori, alla fine sono d'accordo. Tu cosa diresti alla tua? La me del passato è molto piccola, quindi in realtà è che io mi sento di aver cominciato molto presto a dedicarmi a un'attività che mi ha portato via tantissimo tempo, che non ho speso a lavorare su di me e sulle mie relazioni e tipo ad ascoltarmi. E quindi ho raggiunto tutta una serie di consapevolezze che secondo me le persone intorno a me hanno raggiunto prima, dopo. Cioè tutta una serie di altre le ho raggiunte prima. Mi sembri più consapevole di tutte le persone che conosco. Quanto sono consapevoli le tue amiche? Una serie di cose che riguardano il mondo del lavoro e quindi relazionarsi con gli altri in un certo modo. Io ho imparato prima e mi sento di aver frequentato tantissime persone più adulte, quindi di aver imparato a relazionarmi con gli altri, eccetera, eccetera. Da un punto di vista personale, intimo, emotivo mio, del capirmi e di capire che cosa mi piace, dove andare e anche abbracciare dei sentimenti più negativi, tipo la tristezza. Non so, io ho sempre vissuto in una famiglia mega felice che si è raccontata sempre come mega felice e quindi era come se non ci fosse spazio per tutta una serie di sentimenti invece più cupi. E quindi io non facevo altro che respingerli invece di magari affrontarli, elaborarli e accettarli come parti di me, anche se non li rivedevo nella mia famiglia e anche se non erano sentimenti che avevo appreso dagli altri. E tutto questo processo io sento di averlo avuto molto di recente, molto più tardi e quindi mi sento come di aver avuto una crisi adolescenziale a vent'anni in realtà. Come dici tu, in realtà poi sono contenta di come è andata e quindi penso, boh, forse è stato giusto così e va bene così. Non capito perché se poi vai nel passato e dici una cosa alla te del passato e c'è una sorta di butterfly effect che mi cambia tutto, allora dico no, aspetta, va bene così, non cambiare niente. Magari poi ti risvegli di fianco all'ex e dici no, 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 no. No, ma sarebbe bello risvegliarmi in una casa che non era fitto, solo quello dico. Quello sarebbe stupendo, avrei voluto pensarci quando sono venuta a vivere a Milano. Però no, forse anche crescere con una community e che all'età in cui hai iniziato tu può essere una cosa che ti dà tanto ma ti toglie certe cose. Certo perché ovviamente ho avuto tantissime persone che mi davano tantissime conferme che prima erano, cioè era una cosa figa, poi a un certo punto, non so, cioè siccome io non ci credevo davvero, era molto strano. Mi sentivo tipo divisa. Non ci credevi davvero? Vogliamo invece magari leggere delle domande che ci sono arrivate dalla community. Ok. Come gestire a Natale i parenti che ti vorrebbero sposata e madre e invece a te fotte sega? Allora, in realtà neanche su Instagram sento tanto quella pressione perché per esempio io non parlo tanto, in realtà le persone pensano di sapere tantissimo di te, sanno tanto di me, mi conoscono un po', però c'è una parte di me di cui non parlo e relazioni, la mia famiglia, tutta quella sfera lì e quindi non parlandone chi mi segue difficilmente me lo chiede. Sono più proprio persone, sai, che incontri, non lo so, dal panettiere a, che ne so, il vicino, che magari ti dicono dai poi trovi qualcuno e tu dici, magari stai meglio tu di lui e dici, ma ti pare che mi dici con questo modo, sai, tipo un pity party, una festa di pena per te che forse troverai qualcuno. La pressione viene più dagli estranei, non viene dalla mia community e non viene neanche dalla mia famiglia, dalla società. Sì, e questo ovviamente nella maggior parte dei casi avviene sulle donne, sì, e io vabbè, sono troppo, cioè è presto perché le persone abbiano questo tipo di preoccupazioni per me, anche se non dovrebbero mai averla, diciamo che sono ancora in zona franca. Infatti nel senso l'uomo scapolo è cool e chissà, anche se ha 45 anni, la ragazza diventa una zittella, cioè diventa una roba, cioè il termine, sì, è sempre abbastanza negativo, questo sì. Poi chiedono, cosa pensate di chi confonde femminismo con femminilità? Io penso che la confusione più grande legata al termine femminismo sia, contano di più le donne, sia questo, cioè che, oppure odiamo gli uomini, quello che io pensavo significasse femminismo prima di informarmi a 16 anni, per dire, no? E quella la confusione, secondo me pochi confondono femminismo con femminilità, cioè, no? Qui chiedono anche, i veri uomini sono femministi, siete d'accordo? Io in realtà mi sento di correggere la domanda nel senso che cosa vuol dire veri uomini, perché dobbiamo diventare nel contrario, tipo, stigmatizzatori di un tipo di uomo, non lo so. Assolutamente, ma sai che i ragazzi che mi seguono mi scrivono certe volte che si vergognano, tipo, di fare vedere che si guardano le mie storie per come se fosse una cosa non maschile, non macio abbastanza, no? E quindi è ovvio che c'è anche, cioè, il femminismo salva pure gli uomini nel senso. Sì, sì, sicuramente, cioè, ovviamente non si può parlare di una condizione di difficoltà pari, però è vero che esistono anche un sacco di stereotipi per quanto riguarda gli uomini. E anche questa domanda li racchiudeva un po' in realtà. È vero, nel senso, la domanda era i veri uomini, però, diciamo, gli uomini sono femministi o dovrebbero esserlo. Secondo me, cioè, io sto prendendo un po' questo momento della mia vita per dire, ok, anche nella mia vita privata educhiamo le persone che ci sono vicine, quindi i nostri amici, i ragazzi, i nostri fidanzati, i nostri cugini. Cioè, parliamo di queste cose, guardiamoci insieme la IGTV di un'ora in cui ci sono due ragazze esperte di femminismo che ne parlano e cominciamo a un po' educare i ragazzi e anche le ragazze che ci stanno, perché devono sentirsi, secondo me, parte di questa cosa, un po' di dover... Perché il femminismo può spaventare se non lo conosci, cioè, se sei a base zero, cioè, non sai di cosa si parla, ti spaventa subito, dici, oddio, un po' come il vegano al ristorante, dici, oh, madonna, questo è vegano, non mangia niente, io lo dico da vegetariana e ogni tanto anche vegana. Ti dico, cioè, subito dici, oddio, quindi bisogna educare un po' le persone che devono sentirsi parte di questa cosa, secondo me. Sì, e secondo me è come per tutto, che è, diciamo, la filosofia che cerco di adottare quando condivido i contenuti su internet, in questo momento tramite eventi, che è un canale, un progetto che porto avanti insieme ad altre persone, è proprio quella di essere accoglienti, perché poi quello che spaventa è l'ostilità nel spiegare delle cose che in realtà, cioè, basta prendere per mano una persona e accoglierla nel tuo salotto e avere una conversazione con dei toni accoglienti che, secondo me, il passaggio di informazioni avviene in una maniera molto più... È vero, non è facile, sempre. Io sono d'accordo con te, anche io mi sento sempre di essere molto pacata, ma quando si tratta di certi argomenti e quando si parla di certe notizie, di qualcosa che è capitato, magari che si sente al telegiornale o leggi degli articoli, certe volte io dico che non riesco a parlarne perché non riuscirei a parlarne con calma e però è importante che qualcuno ne parli e capisco che ci siano delle persone che ne parlano in modo aggressivo e fanno bene perché non si sta parlando di ah, se mi piace più il cocco o l'ananas, cioè si sta parlando di una cosa che ha degli impatti enormi sulla vita di tante persone, sulla vita di tante donne e quindi è ovvio che ad un certo punto mi si ingazza e ne parla che non ti riesco a prendere per mano e spiegartelo ti vorrei spaccare un tavolo in testa se non la pensi cioè io ho detto nelle mie storie, io escludo dalla mia vita le persone che non la pensano come me sugli argomenti legati al femminismo cioè se tu pensi che lo stupro sia anche un po' colpa della vittima ma non possiamo lavorare insieme, non possiamo essere amici cioè non è una di quelle cose che dici vabbè dai abbiamo opinioni diverse let's agree to disagree e quindi capisco che c'è chi ne parla con molta rabbia e come fai? no 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 capisco la rabbia però secondo me il modo giusto per tipo poi essere davvero costruttivi è magari dire di jet quello che pensi e poi anche rielaborarlo e rifletterci sopra anche in un momento in cui puoi essere più lucido grazie mille Giulia di essere stata madrina di questa serie di incontri che farò nei prossimi giorni per l'uscita di The Wilds ah cosa ti porteresti su un'isola deserta se dovessi portarci? allora intanto ho visto cosa avevano loro e non mi sembrava che ci fossero degli oggetti particolarmente utili quindi ti dico forse mi porterei ah no in realtà loro ce l'hanno la cosa che mi porterei effettivamente e cioè un quaderno con una penna perché io mi rendo conto che la cosa che mi porto sempre in borsa è la penna e il quaderno perché anche se uso tanto il telefono alla fine scrivo tanto disegno schife cioè chiamarli disegno è un insulto per chi disegna del doodles così chiaro quindi sì dai quello una un quaderno e una penna tu? pensavo a un noiosissimo mazzo di carte perché mi diverte giocare a carte mi rilassa certo non dovrei essere da sola quanti giochi e infatti dicevo quanti giochi si fanno da sola in solitario? secondo me ce ne sono vari però hai tutto il tempo di inventartene uno hai tutto il tempo di inventartene uno sicuramente se potessi scegliere una o delle donne da portare con te su un'isola deserta chi sarebbero e perché? allora distinto ti direi ovviamente le mie amiche Paola e Tess no perché non lo so siamo state insieme in barca una settimana è andata bene non ci siamo ammazzate quindi dici potrebbe funzionare mi divertirei penso a livello invece già magari non lo so se dovessi dirti qualcun altro oltre alle mie amiche anche forse mia zia la sorella di mio papà che è una donna di 85 anni che quando ad un certo punto nella sua vita ha lasciato San Cataldo che è la sua cittadina e ha incominciato a farsi dei viaggi di mesi e ancora adesso 85 anni viaggia quindi avrebbe tante cose da raccontarmi non la vedo quasi mai quindi sarebbe una buona occasione per per conoscerci ancora di più no per conoscerci veramente forse tu? io in realtà credo le mie amiche perché sono le persone che nella mia vita erano sempre lì in tutte le situazioni di difficoltà e il loro modo di aiutarmi anche inconsapevolmente ad affrontarle è stato quello di farmi ridere tantissimo che secondo me è molto importante anche essere leggeri e sapersi anche perché erano amici bravi nella natura a muoversi a fare quindi neanche loro quindi arriviamoci su sarebbe talmente divertente che ne uscirebbe fuori qualcosa di secondo me importante per tutte quante anche perché poi è un momento in cui alla fine ti confronti e soprattutto le persone che stimo molto quindi ti direi loro guarda non come nella serie io quando ho visto la prima scena dove sono tutte in aereo ho pensato a quando io prendo l'aereo e magari sei su un volo particolarmente sfortunato e hai quello di fianco e devi andare in bagno l'altro che si sente masticare da lontano l'altro che magari si sta ubriacando in un volo di due ore che dici e dici guarda sopporto queste persone per al massimo un'ora e mezza cioè il tempo del volo pensa a queste che la situazione era più o meno quella si ritrovano loro insieme in un'isola deserta quindi sì non è da scegliere con chi andare un lusso sì e visto che stavamo parlando di portarci delle cose io adesso mi rubo una pianta perché siccome purtroppo i prossimi incontri li dovrò fare da casa mia in zoom almeno do un tocco tropicale penso che prenderò lei questa mi sembra quella messa anche quella forse a livello pratico più prima di rubarla però volevo invitare tutti quelli che ci stanno guardando innanzitutto a dirci nei commenti che cosa si porterebbero loro sull'isola deserta a seguire i prossimi incontri che farò per l'uscita della serie The Wilds e poi ovviamente di andarsi a vedere The Wilds che è appena uscita su Prime Video ciao io spero di aver salutato la camera giusta io ho fatto un buonare con gli occhi così ciao ciao va bene mi prendo la pianta d'accordo prendi qualcosa per casa tua visto che ci siamo portati sì perfetto allora visto che tanto anzi aspetta ho visto ok i bicchieri non ti servono no prendo io prendi no no